Fantanei rossonieri amici rivali di youtube, buonasera 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 allora figli miei, dunque, dunque, c'è gente che fa ridere, cioè c'è gente che fa ridere completamente, innanzitutto, innanzitutto ragazzi quando vedete i miei video, quando non leggete i titoli e scrivete, poi fate anche figure di merda perché poi vi devo scrivere anche sotto che siete dei sommari, oggi c'era questo ragazzo qua che era identico a Gigi Donnarumma, era anche contento, gli ho fatto vedere un bagnino simpaticissimo, altissimo fratto, sembrava veramente Donnarumma, con gli occhiali era identico, ma veramente, gli mancava soltanto la voce, gli mancava soltanto l'accento campano e poi era lui, era il gemello, ho fatto questo video qua, ho messo il titolo, non guardate neanche i video, vedete i titoli, perché riportare false notizie non è portata nessuno, ma brutto somaro, ma guardate il video, lo sai che c'è un video, è ormai questo qua, oltre che quando c'è da parlare seriamente di calcio, si parla seriamente di calcio, adesso si inizia il calcio, ma se faccio tre video in una giornata, uno gogliardico, se a me capita un sosio, capita qualcosa, che posso farvi muovere un sorriso in questa vita di un bel cazzo che abbiamo, che guarda soltanto il pensiero che venire devo tornare al lavoro, meno male che inizia il campionato, Gesù Cristo ti ringrazio, cioè ragazzi fatevelo un sorriso, guardatevi i video, mi conoscete ormai, cioè se riporto un titolo così del cazzo, cioè sapete che io poi non do mai notizie senza sapersi, cioè guardo gli altri e poi comunque sia guardo le notizie in televisione come le guardate voi perché non ho fonti e dopo riporto le notizie, ma perché scrivete sotto che commenti poi vi devo anche rispondere male, mi dispiace rispondermi male cazzo, siete i miei utenti, saluto anche quel ragazzo che oggi anche, alle Caravelle l'altra volta mi ha fermato dei ragazzi di Savona, oggi mi ha fermato uno di Torino, mi ha nissà svegatato, mi fa un piaccio quando mi fermate, c'è un altro ragazzo qua di Loano che mi ha fermato l'altra sera, altri ragazzi di Loano, sono seguito ancora, sono famoso, sono contento veramente, quando vado in giro, comunque in vacanza, quando mi fermate mi fate addirittura sono una persona esattamente come voi, anzi molto più problematica, mi fate veramente sentire importante, mi fa piacere quando mi vedete in giro mi fermate, io poi sono sempre disponibile con tutti perché io sono una persona uomile, non sono un montato di merda, comunque a parte questo, comunque vi invito gentilmente a finire di vedere i video prima di commentarli o di evitare di fare brutte figure, con questo seguito anche il ragazzo che ha scritto quel commento che non c'è nessun problema, non ce l'ho con te, ci mancherebbe altro. Detto questo ragazzi, mi fanno ridere soprattutto però, ok, quelli che dicono che siamo più più scarsi dell'anno scorso, ma come fate a dirsi che cagate qua? Ok, è andato via, com'è che ne hanno fatto la canzone? Mangio, mangio pizza, bevo moretti, odio il fottuto Sunderland, le hanno fatto a tonale, le hanno fatto una canzone bella, comunque io sono contento che Sandro sta andando bene, ci ha portato 80 milioni, ci ha portato 3 centrocampisti, se se ne andasse via anche Cruni c'è anche 13 milioni, no addirittura, prenderci un 13-15, adesso ho letto 8-10, me ne danno 8, io lo porto là io, tranquillamente, con gli 8 milioni lì, con gli altri 4 di Ballotouré 12 milioni, se va via Orighi, che altro cos'è, andiamo a prendere il suo cazzo di Taremi, perché lì Armando Broga, quello del Chelsea, l'ho visto, mi piace, ma anche no, perché se è fatto male arriva da un infortunio pesantissimo, anche no, anche no, assolutamente no. Però il video che volevo portarvi oggi, a parte allora Broga, allora i titoli sono due, primo, allora, no, sono tre, primo, leggete, vedete assolutamente i video, finti di vedere i video, il secondo, Broga, no, perché noi già rinfortunati ne abbiamo già abbastanza, e prenderci uno che ha subito un infortunio così grave, non mi sembra assolutamente il caso, e il terzo titolo, ah, vi ricordo naturalmente, ragazzi, le maglie di che calcio, che calcio, quelli lì, quelli lì, quelli lì, quelli lì, primo messaggio in sovrappressione, andate subito a vederli. Detto questo, ragazzi, detto questo, vi invito, vi invito a comprarne tre, 159 euro, tre magliette ve le rivendete, tre magliette, cioè, pigliate la vostra roba, e le altre tre magliette, ve le prenotate da qualche altro mezzo, dite che vendete le magliette, ve le prendete e ve le rivendete, quindi con 40 euro, invece con 159, avete tre capi, da 159 euro, quel cazzo che volete voi, con 159 euro di roba ne potete prendere, ve lo posso assicurare. Comunque, a parte questo, siete un po' imprenditori nella vita, ragazzi, serve sempre un po' di quella, ok. Ragazzi, io l'ho sempre detto, però, molti mi dicevano di no, ma all'Atalanta secondo me c'è qualcosa che non va, perché è impossibile che ogni giocatore che va via dall'Atalanta prenda i soldi, l'Atalanta, e dopo gli altri rimangono, ah, così, come i babbuini, Oihund, come cazzo si chiama, dal Manchester subito, problema è la schiena, condizionata tutta la stagione, ma niente niente, non è che quando finisce quel famoso Gatorade, ok, che hanno, che vanno da un'altra parte, che sono distrutti completamente, che non hanno più quel famoso Gatorade, poi la benzina è finita, ma non è che niente niente, forse Rasta ci aveva ragione, no, perché ogni persona che va via dall'Atalanta sempre si rompe, lasciando stare conti, ma anche tanti altri, ogni persona che va via dall'Atalanta puntualmente si rompe. Cioè, il Gatorade, ci avete il Gatorade, anche perché non è che ci avete un tanto pulito nel, all'interno del vostro staff, sapete che era quello ex Juve. Detto questo ragazzi, scusate che non faccio live, non prendo un cazzo, poi stasera voglio anche uscire, voglio andarmi a svagare un po', poi domani 13 km di camminata andare, 13 tornare, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, appena torno al bar, vi giuro che avrò la wifi, tutti i giorni faremo le live, tutti i giorni, anche perché sono un bello frizzantino, adesso mi sono ripreso, sono tranquillo, inizia il campionato, abbiamo di cui parlare, saremo sempre, sempre, sempre insieme, non vi abbandonerò mai più. Vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, ciao a tutti i belli miei, ciao a tutti.